e bella a tutti ragazzi eccoci qua in questo nuovo video su gta 5 online oggi siamo in una gara parkour con i nuovi pezzi dell'arena war mondati parkman's parkour 27 sono in compagnia di dux allora dux questa è una carerita parkourita trollerita vediamo un po questa è una gara creata per il suino parkman's e vediamo di trollare dux occhio dai graffimi dai let's go let's go no io sto andando qua in acqua vicino all'acqua attenzione qua dux che c'è il rischio troll bravo che è meglio occhio ok e ora inizia il parkourita la magia in acqua let's go noi andiamo ragazzi sta parte mi piace eh dux sempre trollata aspettiamo va lo stacchio dov'è l'altro giocatore che ho paura di questo mi sembra un trollone trollicchia frena e mi sono trovato avevo paura dell'altro giocatore ma mi trollo da solo eh si allora aspettiamo guarda dove si trova là ce l'ha fatta ce l'ha fatta stai attento all'ultimo quando vai all'ultimo che la c'è la il coso più più fino ah già eh i parkour non fanno per tutti it's not for noob i miei parkour ragazzi guardate anche questo taram eh va bene ok io non so eh già si bestemmia meglio ma c'è c'è il tropitrack quando acceleri aia c'è un'accele allora ragazzi non ci siamo io per superare quell'ostacolo mi sono trollato non potessi di aspettare vabbè dai serio adesso abbiamo cazzeggiato un po' no dai non è difficile solo che c'è l'accelerazione il tropitrack che a volte aspettiamo dai è prima prima una trollata adesso l'aspetto questa cosa qua ah qui ok adesso possiamo andare veloce veloce ok ok ci siamo l'ultima no 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 ragazzi ragazzi io non ho parole oggi sto registrando in un orario strano che sono le 11 di mattina appena svegliato c'è un freddo assurdo mani congelate e sto facendo un parkour quindi ragazzi abbiate pietà di solito registro il pomeriggio che sono più allenato ma stamattina prena vediamo Dux come cade intanto olle abbiamo visto la caduta in diretta vediamo 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 se ne trollo io dai l'ultimo mi sto iniziando a scaldare adesso la finiamo la completiamo subito questa è che verità bene olle abbiamo preso il check vediamo Dux dove si doveva solo scaldare i polpastrelli piano piano ce la farai ok guardate questi pezzi nuovi ragazzi bellissimi pezzi nuovi dell'arena una casa spettacolo Dux aspettiamo il nostro amico ostacolo olle andiamo avanti qua sento questi nuovi pezzi tanto Dux si sta trolla malamente anche a te sarà il freddo l'orario si si andare veloce se no non ce la fa il trophy sempre alla fine tanto qua stiamo facendo gli slalom sopra le case ecco il check ok l'abbiamo fatto anche questo che belli questo da checking bell sentito no mi sono salvato per un pelo sono proprio per un pelo facciamo un bel trial trial trophy truck oh si via il trial oh frena qui c'è una mega rampa si vola qua il mega salto alla perfezione e sta parte è tosta ma guarda che belli sti pezzi sta parte è tosta speriamo di farla alla prima concentrazione ok aspettiamo andiamo 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 ok concentrazione siamo otto minuti di gara no 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 eh lo sapevo raga già è tosta è tosta qua con calma con calma facciamo tutto aspettiamo lo stacco perché sono tre parti di queste ce l'hai fatta adesso non c'è nulla di difficile a parte questa parte che sto facendo io questa questa è una parte che parte grazie mille dux allora andiamo avanti non cadiamo qui per favore il problema del trophy track è che non ha se ti cade giù una ruota sei rovinato non riesci più a riequilibrarla è un bordello ci siamo ci siamo ci siamo l'ultimo e il check point ragazzi abbiamo l'ultimo e il check l'ultimo e il check ce l'abbiamo ce l'abbiamo raga raga lasciate un grosso like per sta parte perché ci ho veramente messo un pochetto a farla però è bellissimo un bel like un bel pollicione questa parte intanto la fate in retromarcia vedete anche questo il spettacolo della sprank extreme tutti oggetti nuovi moddati bellissimi andiamo 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 oh ma che succede oggi festa tanti like ok ok e abbiamo preso il check mamma mia che rigirata guardate qua l'hamburger senza pane guardate che spettacolo ah c'è 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 questa parte legale l'altra parte è un po' difficile ma non impossibile molto trial no ho parlato ho parlato allora dai eh concentrazione saliamo qua su. Allora, qui saliamo così, poi saliamo qua così, sempre stando attenti perché se esce una ruota, questa cosa qua è a terra praticamente, non hai possibilità più di salvarti, quindi le ruotine devono stare tutte su. Che punto sei tu, Dux? Che punto sei, Dux? Ah, ok. Sei quasi alla fine, sei lì, sei bello quasi alla fine. Devo fare l'ultimo, regà, l'ultima parte, questo è il checkpoint. Oh, 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 vedi è caduta una ruota giù, è caduta una ruota giù, panico, panico, non ci voglio credere, non ci credo, regà, non ci credo. Vedete, se va giù una ruota, siete rovinati. Era un passo dal check, Dux, è andata giù la ruota. Ah, Dux, questa cosa qua è il karma, ma ero proprio all'ultimo, ho detto, su però questo c'è il check. Eh? Ma volevi? Eh? Pensavi! Dio, Dios mio. Vai lui! Ok. Scusate ragazzi, questa settimana ho portato pochi video, ma ho avuto un po' di impegni, qui, sono venuto a creare le gare, ho creato un po' di gare con pezzi nuovi, quindi ho avuto poco tempo da registrare, comunque adesso porterò più video. È una live a settimana, credo che il lunedì, con Daniele Pereto, dovremmo portare una live a settimana, lo vediamo. Tanto parlando, parlando, siamo ritornati qui, nel punto killer. No, Romanas, punto, ce l'abbiamo fatta. Prendi il punto, prendi il punto, e lo tengo, e lo tengo. Lo Stadux, eccolo, ah, nella parte critica, sì, eh, lezzo, lezzo. Oddio, Andiamo avanti, dai, che adesso c'è la mega rampa di Hamburgerese. Andiamo, 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 frena, 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 andiamo, 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 andiamo. No, 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 no. No, se mi trollo pure qua, allora vuol dire che... Eh, stamattina, regà, non sono concentrato. Stamattina ho poca concentrazione, poi fa freddo, io odio il freddo, non so se voi odiate il freddo, ma io sì. Tedux, Minecraft, invece fai su GTA, ok, appa, no vai prenderci la mano sulla parte lì. Ed ecco qua ragazzi, la mega rampa di hamburger e se, guardate che spettacolo, oh my god, oh my god. E con questa mega rampa ragà, io ringrazio Dux per aver partecipato a questo video e come sempre ci becchiamo, come sempre ci becchiamo, al prossimo video, bella regà.